Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te. Mi ha capitato una contravenzione e così mi ho parlato, mi mandai ai ministri. Mi hanno condannato, un mese di galera, 28 miliardi e una contravenzione. Ora io ci ho mandato una lettera a Roma, a quest'altro, della Repubblica, onorevoli, al Ministro della Difesa. Il Presidente del Consiglio, strisce della notizia, strisce della notizia, ora, al Presidente della Repubblica, Napoletano. Il Napoletano mi ha risposto, mi ha risposto, rivolgetevi alla giustizia. Giri ha in tanto tempo di trovare la giustizia e non l'ho trovata. Ora, come posso fare? Ah, al Presidente del Consiglio, puri, quest'altro. Il Ministro della Giustizia. Onorevoli, pannella pure. Mi rivolgia anche in Francia, anche in Francia, non mi hanno dato nessun esito. La giustizia italiana deve provvedere per queste ingiustizie. Una contravenzione che non era giusta di farla. Mi hanno accusato, mi hanno accusato, passanite Giovanni, non può avere nessun attinovante perché ha precedenti penali, anche un omicidio. Non c'è. Precedenti penali non ci sono. A chi mi devo rivolgere a questa giustizia italiana? Arrivederci e buona giornata. Arrivederci e buona giornata. Non lo so. Ero fuori io. Non c'è. Mi fido di te. Mi fido di te. Mi fido di te. Io mi fido di te. Ehi, mi fido di te. Cosa sei disposto a perdere? Lampi di luce, al collo una croce... La Dea del...